Da un lato c'è la possibilità di far emergere il lavoro cosiddetto in nero, dall'altro c'è la possibilità di regolarizzare alcuni stranieri che intendono trovare un posto di lavoro in questi settori. 45 giorni per far emergere tutti i rapporti di lavoro in nero nel nostro paese. È infatti partita lo scorso 1 giugno la finestra per la presentazione delle domande per la regolarizzazione del lavoro sommerso e delle domande di permesso di soggiorno temporaneo. Sarà possibile per un datore di lavoro concludere un rapporto di lavoro con un cittadino straniero oppure sarà possibile dichiarare l'emergere di un lavoro già presente irregolare con un cittadino straniero oppure con un cittadino italiano. Inoltre per cittadini stranieri che hanno già lavorato nei settori oggetto di questa procedura e che hanno un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 c'è la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno alla questura per sei mesi e in questi sei mesi potranno dimostrare di concludere un rapporto di lavoro per cui quel permesso di soggiorno temporaneo potrà essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si tratta di una delle misure adottate dal decreto rilancio a sostegno dei lavoratori. I settori previsti sono quelli dell'agricoltura, dell'azotecnia, della pesca, dell'acquacoltura e dei settori affini a questi che sono indicati in un elenco con i codici ATECO che è reperibile anche sul sito del Ministero dell'Interno. Poi i datori di lavoro che possono aderire a questa procedura sono datori di lavoro italiani, comunitari o cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo. Le domande potranno essere presentate entro il 15 luglio. L'istanza per quanto riguarda lo sportello unico dell'immigrazione è presentata dal datore di lavoro nel sito presente nella piattaforma del Ministero dell'Interno che è nullaostalavoro.dlc.interno.it È lo stesso sito che viene comunemente usato per le domande di lavoro stagionale o per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.